Quella di Giuseppe Inzalaco è stata un'altra vicenda da 100 giorni a Palermo. Nel 1983 venne eletto sindaco del capologo siciliano e rimase in carica per 100 giorni. Una figura politica che sembra quasi rimossa dalla memoria della città. Eppure la sua storia andrebbe riletta. La sera di quel 12 gennaio di 28 anni fa Inzalaco era da solo, la guida della sua auto. Venne affiancato da due killer su un vespone bianco. Perché uccidere un ex sindaco che apparentemente non faceva più notizia. Eppure appena quattro anni prima, dopo l'esperienza alla guida del comune di Palermo, era stato ascoltato insieme con Elda Pucci dalla commissione antimafia. In quella sedia aveva ripetuto le accuse al gruppo democristiano. Facente capo a Vito Ciancimino parlò di manovre per bloccare la sua esperienza amministrativa che voleva disegnare con una visione moderna, sganciata da interessi forti e potentati politici. E lui era un politico esperto, fu assessore comunale, fu anche deputato regionale nella nona legislatura. Un politico giovane appartenente ad una generazione di democristiani che scommettevano su una nuova politica. Una scommessa forte tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Ho capito che José Palermo amministrandolo aveva dichiarato Inzalaco che dopo le dichiarazioni all'antimafia aveva avuto bruciata l'auto, un chiaro avvertimento. In 28 anni mai una commemorazione pubblica, non una lapide, non una intitolazione. Adesso il Comune apporrà una lapide in via Cesario e dedicherà ad Inzalaco uno spazio pubblico. Un riconoscimento tardivo, ma in ogni caso importante.